La giornata è spettacolare, quindi c'è un bel numero di atleti, di partecipanti, di pubblico, quindi siamo molto soddisfatti. È un circuito che tra l'altro è stato scelto da Giovanni De Benedictis, perché è un tratto di strada che lui adoperava quotidianamente per i suoi allenamenti, quindi chiaramente c'è stata un'indicazione, voglio dire, abbastanza importante. Per me è una grande emozione, anche perché è il mio primo titolo italiano assoluto, ho fatto un po' di podi, ma non mi era mai capitata l'opportunità. Speriamo che la 35 sia una buona distanza e intanto voglio ringraziare tutti i tecnici che c'erano sul percorso ad incitarmi fino alla fine, soprattutto il mio allenatore Ruggero Sala. Speriamo che vada sempre meglio, c'è fra una cinquantina di giorni la Coppa del Mondo in Oman e poi quest'anno ci saranno sia i campionati del mondo individuali Eugin che gli europei sempre individuali a Monaco di Baviera. Vediamo. Ho dominato fino ai 30 chilometri, stavo veramente bene, sono passato due ore 8,57, pensavo di finirla bene, invece le ultime cinque ho un po' accusato muscolarmente. Poi sono anche caduto alla boa perché era un po' ghiacciata, però va bene così, prima gara dell'anno, adesso pensiamo ai mondiali a squadra di Oman. Ti ha fatto compagnia il tuo compagno di squadra dei carabinieri Stefano Chiesa, ma poi tanta solitudine. Avevi anche tu paura della famigerata Pizzo Plane che ha punito tanti tuoi colleghi? Era una gara che volevo già impostare così, anche perché nell'allenamento che avevo fatto sapevo che potevo impostarla così. Quello che mi è mancato un po' sono stati muscolarmente gli ultimi cinque chilometri, un po' dispiaciuto per quello.